Buonasera, quindi la vicenda, il pasticcio redditometro domina la scena politica annunciato ieri l'altro, confermato ieri, diventato l'oggetto di una polemica fortissima soprattutto all'interno della maggioranza. Questa sera il decreto, il provvedimento sul redditometro rientra già tra i provvedimenti che vengono ritirati. Lo ha annunciato la stessa Giorgia Meloni dopo aver incontrato il vice ministro dell'economia Leo. Oggi ho incontrato il vice ministro Leo, ci siamo confrontati sui contenuti del decreto che era stato predisposto dagli uffici del ministero dell'economia e delle finanze e siamo giunti alla conclusione che sia meglio sospendere questo decreto in attesa di ulteriori approfondimenti. Mai nessun grande fratello fiscale sospendere il decreto ministeriale e bloccare il redditometro. Questa con tanto di video la decisione della Premier arrivata poco fa. Troppo forte la polemica, troppo violenta la tempesta dentro la maggioranza due settimane dal voto per correggere solo con una diversa comunicazione gli effetti politicamente dirompenti del redditometro. Il provvedimento che incrocia redditi e spese, proprietà, barche e così via, pubblicato solo due giorni fa in gazzetta ufficiale con la firma del vice ministro dell'economia Leo, Fratelli d'Italia. Se di prima mattina Giorgia Meloni si era limitato a giurare su Facebook che mai il suo partito avrebbe avallato un grande fratello fiscale e che avrebbe ascoltato Leo e provveduto a modifiche se necessarie, a sera questa promessa non è più sufficiente. Così come le spiegazioni fornite dallo stesso Leo in un'intervista al Corriere. Che il redditometro era dovuto, che in realtà si tratta di un superamento, che lo chiedeva la Corte dei Conti, che non è pesante, che è a vantaggio dei contribuenti. Argomenti destinati ad infrangersi contro il muro delle proteste degli alleati. Salvini che parla di un orrore e a cui si deve il paragone con il grande fratello e il vice ministro Tajani che non si limita a bocciare il decreto ma che chiede con forza di modificarlo. La relazione del vice ministro pretesa dalla Premier per il prossimo Consiglio dei Ministeri non è bastata a placare gli animi né l'irritazione della stessa Meloni né l'imbarazzo del ministro Giorgetti che del varo del decreto ministeriale non erano stati informati. Leo non ha valutato la tempistica, le ricadute politiche, la diagnosi dei colleghi di partito uno di questi, il presidente della Commissione Finanze della Camera, Marco Snato, aveva provato a rimettere nella giusta luce il redditometro definendolo un elemento che aiuta a trovare nelle incongruenze esibendo anche la valutazione di scarso impatto fatta dal numero uno dell'Agenzia delle Entrate. Un atto di indirizzo, non molto di più. Maguai è identificare la riforma fiscale della destra con il redditometro con una linea punitiva e occhiuta dalla quale Forza Italia e Lega si sono immediatamente smarcate. In pervi anche la strada delle modifiche, visto che il decreto ai Gengazetta ufficiale non restava che la sospensione, comunque un gesto che si presta alle polemiche di un'opposizione già sul piede di guerra, pronta ad attaccare le incoerenze di Fratelli d'Italia, le divisioni nella coalizione, Elish Line e Italia Viva e perfino con Conte ad utilizzare quelle stesse parole della Lega, Grande Fratello.